ma che c'è qua? cos'è? cos'è? aspetta che cosa c'è qua? lì sopra c'è un qualcosa che non riesco sottiglietto allora questo è olio sottiglietto non c'è mai niente che andava questo fritto cos'è questo? due fritte e due vabbè finito tutto sempre qui ma che deve qui? niente pezzo di ghiaccio ma che schifo qui che c'è? qui 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 c'è una... bere l'aceto che deve che schifo? adesso facciamo una bella cosa di peperoncino con le sottilette perché le sottilette sono importanti scadute le sottilette ne mangio perché ne mangio sottilette pizza Sì. O se è andato. O se... ...e che scada qua... ...c'è... Come se non... ...e che... ...e che... ...e che... ...e che sai che c'è? Io sto a dieta sto. Perché devo stare a dieta. Quindi non mangio queste tre cose che... ...che stanno qua. E quindi... ...così. E io non mangio perché è sempre... ...frico vuoto. Questa cosa davvero manca... ...e che... ...anche se è tutto vuoto. Anche se... ...va a fare la mocca... ...e scada pure questa... ...tutto scade, tutto. Tutto. Non è possibile. Non è possibile. Vabbè. Vabbè. Aspetta un attimo però. ... ...la mangio così... ...me fa un po' schifo. Ah... ...la mangio così... ...questa è buona, eh... ...questa è... ...marmellata... ...è... 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 ...e... ...marmellata... ...sente... ...pranzo con la marmellata... ...perché non mi vada da uscire a fare... ...spesa, capito? ... ...devo dire... ...che la marmellata... ...era altrettanto buona... ...devo dire... ...devo dire... ...basta mamma... ...mangiate troppo... ...basta, basta... ...